buongiorno buongiorno al dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi dcs vera e professionale con la v maiuscola oggi rispondo ad un signore di francoforte germane il quale mi chiede testualmente dottore ma è possibile con l'ipnosi dcs vera professionale con il potere della mente ritardare la vecchiaia sì o no la mia risposta e da mie esperienze dirette indirette anche dell'associazione i prologi associati los angeles baby reels e anche del sottoscritto la risposta è naturalmente sì se tu ti ipnotizzi seguendo alla lettera l'istruzione alla prova di un nonno alla prova di un idiota alla prova di un pigro anche con l'ipnosi dcs anche con un solo l'audio mp3 dcs tu porterai i tuoi organi le tue gandole i tuoi tessuti i tuoi muscoli le tue ossa la tua pelle i tuoi capelli a ringiovanire perché succede perché rifletti un attimo la nostra mente è fatta da una parte cosciente che il 12 per cento della mente e l'88 per cento la parte automatico che è il subconscio il subconsciente non fa altro che acquisire tutte le tue vite precedenti ma anche le vite dei tuoi antenati quindi non nasciamo già nella pace della mamma registriamo che qualcuno muore che qualcuno invecchia apriamo gli occhi vediamo il nonno la nonna i vecchietti e compagnia quindi noi abbiamo un orologio biologico come dice anche la scienza che non ti dà tra virgolette scampo ma cosa accelera questo orologio biologico questa a diventare vecchi prima del tempo e perché non tutti invecchiano allo stesso modo io conosco dei vecchietti che hanno ancora i capelli neri i capelli castani non bianchi eppure hanno 70 75 anni altri invece che anche a 20 anni cacciano i capelli bianchi oppure la pelle diventa vecchia con macchie marroni e compagnia bella tipiche della vecchia perché se rifletti le nuvole nere i pensieri negativi il passato negativo ripeti oggi ripeti domani ripeti dopo domani si sedimenta sulla pelle sul corpo sui capelli e tu invecchi perché inconsciamente sai che prima o poi devi andare devi morire devi andare nell'altra vita ok che cosa fa l'ipnosi di cs vera professionale con la v maiuscola unica al mondo con le suggestioni con il metodo che ho fondato sul metodo della dottoressa rina pronini il professor dottor michelangela garai perché da più di 12 anni mi ipnotizzo h24 anche adesso sono ipnotizzato l'unico caso al mondo a certi livelli perché l'ipnosi di cs non mi ruba tempo non mi stressa non mi impegna non mi fa mettergli auricolari eccetera eccetera ti posso garantire che io ho 54 anni e tutti mi dicono che è impossibile ok ma guarda e vedi perché perché mi ipnotizzo sempre comunque se un metodo non ti ruba tempo non ti stressa non ti impegna perché no per cui sì la risposta è sì e poi ci sono anche studi scientifici in merito tu puoi andare sull'anset su live riviste scientifiche internazionali dove tu vedrai il rapporto ipnosi con l'età con la vecchiaia e noterai che ci sono molti casi su un gruppo di persone ben 80 90 hanno avuto miglioramenti strabilianti fammi tutte le domande del caso vista il mio sito internet www.iprorogiassociati.com la mia fanpage su facebook ipnosi appunto ipnosi del dottor claudio saracino iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzione di cs del dottor claudio saracino e fa share condividi con amici e parenti perché può essere quel quid quella molla che gli può cambiare la vita e seguimi anche sugli altri social a instagram e twitter benessere ipnosi soluzione di cs del dottor claudio saracino un bacio un abbraccio amico a mia amica mia alla prossima ciao